lunedì 4 novembre dopo tanti problemi e tanto tempo riesco a tornare in acqua la giornata è bellissima mare calmo e totale assenza di vento prendo subito una corvina al volo ma ciò che noto è la presenza d'acqua dolce in superficie e tante apposidone ammortel nel fondo per un'ora non vedo niente e poi all'esterno di questa secca vedo un branco di corvine schizzare in tutte le direzioni provo a scendere e la fortuna mi aiuta grazie a tutti 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 dopo due ore decido di andare verso nord il fondale sempre composto da sabbia posidonia ai agglomerati di granito e l'esperienza mi aiuta a prendere il terzo pesce della giornata grazie a tutti 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 così. Spero in futuro che si ripeta. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.